Nel calcio puoi scegliere di non avere il pallone per 80 minuti e vincere la partita. Manchester City-Celsi, finale di Champions due anni fa, Manchester City fa 75% di possesso, più o meno. Il Chelsea 25%, fa gol, il Chelsea vince 1-0 e alza la coppa e se la porta a casa. Quindi nel calcio, paradossalmente, non avere lo strumento, non è detto non voler vincere le partite. Negli altri sport, più o meno, devi avere tu. La palla a bollo per far punto, devi far tu. Nel calcio invece, magari tu hai tanto la palla, scivoli, io la rubo, faccio gol e vinco. Quindi la correlazione dati, partita, video, non esiste. O magari esiste in piccole porzioni.